Ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video in cui parleremo dei miei contorno occhi top preferiti per vari motivi perché hanno veramente tanti nel tempo, hanno accumulati diversi e in questo video ve ne voglio parlare. Ovviamente nell'info box troverete tutti i vari prodotti con anche alnesso il proprio link e troverete anche la lista, diciamo la vetrina di Amazon dove ci saranno vari prodotti anche lì inseriti sia che trovate in questo video ma anche in generale prodotti che mi piacciono sempre merita skin care, makeup, capelli eccetera ma anche altro, quindi anche libri, cose un po' diciamo più lifestyle. Ovviamente metterò solo i link che troverò, se di qualcosa non trovo il link mi spiace ma non riuscirò a fare altrimenti. Partiamo subito con questo contorno occhi di Moolah Kilcher Recharge Eye Awake, contorno occhi idratante e illuminante. Questo contorno occhi ragazze l'ho veramente amato, secondo me è top, vi dura abbastanza perché comunque all'interno i classici mi sembra 15 ml, vi dura molto, packaging per me favoloso con questo sotto vetro tipo opaco e sopra no, cioè non so, proprio bello anche il packaging così rosso. Mi è piaciuto tantissimo, questo proprio nello specifico sentivo che come contorno occhi mi dava un senso di idratazione ed era anche emolliente come contorno occhi. Lo sentivo veramente tanto idratante ma non troppo, cioè comunque io fino a una certa riesco a sopportare ma dopo un po' mi possono venire i grani di miglio perché sono troppo idratante. Per farvi un esempio, come si chiama, l'avocado, quello all'avocado di Kiehl's per me è veramente tanto, tanto, tanto ricco e corposo e infatti l'ho usato, sì, super idratante ma troppo, nel senso che mi ha fatto venire i grani di miglio, quindi per me comunque un contorno occhi non deve esagerare nell'idratazione, mi piace che lo sia ma fino a una certa e questo qui di Mulac rispettava proprio tutte queste cose, in più ha un profumino dolce, molto buono veramente top, 92% di ingredienti naturali se è una cosa che vi interessa, secondo me questo contorno occhi merita tantissimo. Un altro contorno occhi che vi straconsiglio è questo qua di Collistar il contorno occhi acido ialuronico più peptidi, allora in generale i peptidi non lo sappiamo benissimo che sono dei super anti-age insieme a retinol eccetera, però i peptidi ovviamente essendo più idratanti vanno bene un po' a tutti, infatti questo contorno occhi secondo me è favoloso per chi anche non riesce a tollerare troppo il retinolo nel contorno occhi, veramente mi piace tantissimo lo trovo molto idratante ma al tempo stesso è molto leggero, quindi io lo trovo top per tutti i giorni soprattutto per il giorno, per la sera forse preferirei qualcosa di un po' più corposo perché comunque è una texture abbastanza gelosa, quindi potrebbe non essere abbastanza almeno questo è un mio parere, io diciamo che spesso e volentieri i contorno occhi li divido tra contorno occhi mattina e sera proprio per questi motivi, ovvero la mattina mi piacciono delle texture più in gel, delle texture proprio che si assorbono in tre secondi, invece per la sera preferisco texture più cremose, texture più corpose e comunque la sera uso anche il retinolo, quindi di solito uso due sieri insieme, ecco uno idratante e uno al retinolo, comunque questo qua veramente mi è piaciuto tantissimo, lo trovate su Amazon, lo trovate veramente molto facilmente, mi piace tanto, veramente contorno occhi top, soprattutto perché ha un contorno occhi un po' più magari maturo ma che non tollera cose troppo pesanti. Poi abbiamo questo qua di Mario Badescu, la Hyaluronic Eye Cream, penso che Mario Badescu ne abbia fatti diversi di contorno occhi, se non sbaglio, questo qui è idratante, un leggermente meno per esempio rispetto a quello di Mulac per farvi un paragone, ma comunque lo trovo veramente top per tutti i giorni, questo qui secondo me può essere anche un contorno occhi ideale per chi si sta approcciando all'inizio della skin care, per chi non vuole chissà che cosa nel contorno occhi, per chi vuole la cosa super basic del mondo, lo consiglierei anche a pelli giovani che magari vogliono mettere un contorno occhi per prevenire, per idratare, ma che non hanno particolari esigenze, veramente mi è piaciuto tanto, ha un costo super abbordabile, secondo me questo merita tanto. Passiamo a questo di Cosme Cos, il contorno occhi illuminante con vitamina C e caffeina, questo qui anche secondo me è veramente super valido, non fatevi ingannare dal packaging, anche questo ha 15 ml all'interno, questo qui intanto lo promuovo perché è super low cost sotto sicuri 10 euro, quindi già quando io trovo un contorno occhi low cost sono contenta perché così posso consigliare a chi non vuole spendere troppo, lo trovo idratante con un leggero, almeno a me sembra, un leggero finish coloratino, quindi probabilmente dà quell'effetto anche illuminante proprio perché ha dei colori all'interno che rendono leggermente, ovviamente ragazze non aspettatevi miracoli da questo contorno occhi, però leggermente fa un finish un po' più luminoso, ho fatto la prova di metterlo in on e ho visto la differenza, secondo me è veramente carino, l'ho trovata al supermercato cop senza troppi problemi, veramente super reperibile, super economico, secondo me questo qui va benissimo per chi non ha troppe pretese, anche qua riduce borse occhiaie, non ne sono così sicura perché comunque la trovo una formula molto basic, non la trovo una formula chissà con quanti attivi all'interno super nell'insieme, ecco perché diciamo che la vitamina C, la caffeina ovviamente entrambe fanno tantissimo per le borse, per la luminosità eccetera, però in questa specifica formula non ho notato queste caratteristiche ecco, o forse sì ma in minima parte, quindi se avete proprio queste pretese diciamo da un contorno occhi eviterei, ma se volete andare su una cosa abbastanza economica, comunque con un po' di vitamina C e caffeina che anche solo lui vi leggermente dà quel tocco di sano al contorno occhi, questo è veramente carino. Passiamo a questo di Beauty of Johnson, il Revive Eye Serum Ginseng Puretinal, questo qua ragazze è top, io non lo so neanche da quanti mesi che lo sto usando, non finisce mai all'interno 30 ml, quindi praticamente il doppio rispetto alla norma che troviamo di solito, questo qui all'interno appunto la retinaldeide ed è diciamo prima dell'isotretinoina lo step più forte di retinolo, perché il retinolo ha varie forme e questa è la seconda più forte diciamo. Ho notato che se sono brava, ovvero che non esagero con la quantità, ragazze veramente ci va una goccia, perché questo avendo il retinolo ci va veramente pochissimo, quindi se faccio la brava in questo senso, ovvero ne metto poco, non lo metto troppo vicino al, non so, com'è che si dice qua, alla palpebra sotto, insomma a questa parte che a volte mi capita di andarci, tutto a posto, le volte che invece vado troppo vicino non ne metto troppo, mi irrita un po' l'occhio, non mi irrita, mi brucia, perché comunque è normale, il retinolo fa questo effetto, quindi mi raccomando se volete provare dei contornocchi al retinolo, fantastico, sono top, soprattutto lavorano tanto sulle occhiaie, il retinolo ha veramente dei gran poteri da quel lato, ovviamente a lungo termine, però non vi aspettate subito il miracolo, però dovete sapere che primo ne va pochissimo, secondo vi dovete abituare, un po' come sul viso, il retinolo che ci vuole un po' di tempo, immaginatevi sul contornocchi che è una zona ancora più sottile e delicata, quindi io mi raccomando di dirvi che dovete andarci veramente, veramente con i piedi di piombo, magari iniziate con una volta a settimana, poi iniziate con due volte e un altro super consiglio che vi do è di fare il metodo sandwich, ovvero mettere, in questo caso visto che parliamo di contornocchi, un contornocchi idratante, questo e un contornocchi idratante di nuovo, perché in questo modo la formula è riuscita ad attutirla un po', diciamo che non è che lo rende meno efficace, però essendo insieme a una base di idratazione, insomma è più sopportabile, quindi in questo caso ve lo straconsiglio, comunque questo contornocchi e retinolo per me è favoloso e ve lo consiglio anche perché appunto vi dura una vita e ha un costo super economico. Passiamo a un brand un po' più low cost, ovvero l'Ancom, questo qui è l'Absolute Soin Regal Revitalization, vabbè sì, ho contornocchi rivitalizzante. Allora questo qui è una mini size perché non so se vi ricordate, non so se l'avete visto, io avevo fatto un unboxing del calendario di San Valentino di Lancome e questo è stato praticamente il primo prodotto che ho iniziato a testare perché ero molto curiosa. Questo contornocchi per me è molto valido, anche se sto notando che molto sotto mi si stanno creando come dei piccolissimi grani di miglio e credo sia per colpa sua, passatemi il termine, perché è veramente molto idratante questo contornocchi, ne va veramente poco, non dovete esagerare e lo consiglio veramente magari anche a pelli mature che hanno bisogno di tanta tanta idratazione. Per me appunto sto notando che forse è un po' too much, quindi devo un po' diminuire la dose sicuramente e anche le sere che lo utilizzo perché comunque ci sono magari quelle sere che sento il contornocchi molto più appunto secco rispetto al solito, invece quelle sere che potrei anche non mettere nulla. Diciamo che io sul contornocchi sono abbastanza neutra, cioè nel senso non ho bisogno di chissà che cosa ok, quindi sto notando, cioè proprio ieri mi guardavo da vicino che tipo qua sotto adesso non mi ricordo dove, si sta intravedendo, non so se verrà fuori, non so se è una mia paranoia, ma si stava intravedendo un piccolo grano di miglio e visto che io ci sono già passata perché con quello di Kils mi era venuto, voglio evitare, quindi mi sa che adesso lo accantono un attimo perché penso proprio sia lui, però appunto è super idratante, quindi se avete queste necessità ve lo straconsiglio, penso abbia un costo un po' più elevato, io non so il costo sinceramente perché il calendario dell'avvento era un po', che poi non è il calendario dell'avvento, era il calendario di San Valentino, era un po', cioè tutto insieme, quindi non so i prezzi singoli, però conoscendo il brand immagino che sia costoso, però se cercate appunto qualcosa di un po' anche bougie che vi piace da usare, un po' lusso e comunque molto idratante, secondo me questo qua è veramente molto valido. Poi vi mostro un altro low cost che è questo qua di Bioboutique la rosa canina fragolosa con tornocchi idratante, fragole e panna, allora Bioboutique la rosa canina, ve l'ho forse detto altre volte, ma vabbè mi ripeto due secondi, ha tipo tre linee mi sembra per la skin care, che una è fragolosa, l'altra è zuccherino e l'altra ancora credo ci sia il limone, credo siano solo queste tre, non mi ricordo, sa di fatto che tutte le linee sono identiche, da più o meno, cambia solo tipo il gusto, il profumo. Allora devo dire che questo contornocchi è molto low cost perché è sotto i 10 euro sicuramente, secondo me è valido, nel senso che anche questo non vi aspettate i miracoli, non vi aspettate che vi faccia chissà che cosa, però il suo lo fa veramente molto molto bene, veramente ve lo straconsiglio, perché è un contornocchi idratante ma non troppissimo, top secondo me per il giorno e pre trucco, perché comunque dà quell'idratazione che non è esagerata, perché a volte ci sono quei contornocchi che si sono idratanti molto, però magari poi danno un po' noia mentre vi truccate, perché appunto essendo molto corposi magari iniziano a fare strato. Questo invece si asciuga praticamente in tre secondi, è idratante, è piacevole da mettere, anche di questo non ne va tantissimo, poi devo dire che è anche proprio carino il packaging, diciamo è molto puccioso, anche la pipetta qui diciamo l'erogatore non è niente male, secondo me è un contornocchi molto molto valido, anche questo i soliti 15 ml, veramente se non avete, ripeto, chissà quante pretese, soprattutto per il giorno, idratante, low cost, super reperibile perché appunto basta andare sul loro sito, secondo me è veramente valido. Ultimo contornocchi di oggi è questo qua di Clinique, l'All About Eyes Reduced Circle Puff Son You Anti-Push Anti-Creep, ok? Vabbè, è comunque credo l'unico di Clinique, quello base, questo l'ho anche finito, quello base, non quello rich, perché credo ci sia All About Eyes Rich, credo, non mi ricordo bene, comunque è quello normale. Questo qui secondo me è super valido, l'ho già consigliato diverse volte, ha una texture che secondo me è abbastanza unica nel suo genere, nel senso che è in gel, ma è un gel cremoso, c'è un gel molto idratante, lascia proprio un effetto fresco immediato, quindi per la mattina è veramente favola. Io lo trovo comunque abbastanza corposo, cioè diciamo più che corposo, abbastanza idratante da essere usato anche la sera, quindi lo trovo ottimo per sia mattina che sera, secondo me è veramente molto carino, perché ha questo finish anche un po' luminoso, lucido, che rimane, poi una volta che si setta va anche via, ecco, però dà proprio immediatamente un effetto di salute, cioè io non so se all'interno, sinceramente non mi sono informata, non so se ha tipo delle micro paiuzze all'interno, tipo cose retrofrettenti, non lo so, però noto che anche se per esempio voi non vi volete truccare quel giorno e mettete questo contorno occhi, visivamente il contorno occhi è più sveglio, più luminoso, veramente secondo me super valido, a me Clinique in generale per queste cose, creme contorno occhi, soprattutto questa linea qua merita veramente molto. Bene ragazzi, allora vi ho fatto vedere un po' di contorno occhi, più avanti magari ve ne farò vedere ancora altri, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare questo video e fatemi sapere se avete già provato questi contorno occhi che vi ho mostrato, se li proverete, se vi ispirano e se vi sfizzano, insomma fatemi sapere nei commenti che sono super curiosa. Mi raccomando iscrivetevi al canale per arrivare tutti insieme ai 1000 iscritti che appunto sarà una grandissima gioia arrivarci tutti insieme e mettete anche un bel mi piace per farmi capire se questo stile di video appunto vi piace, se volete che li porti ancora eccetera eccetera. Io nel frattempo vi saluto e ci vediamo super presso con altri video. Bacioni!